Smart Working, prima indagine sulla qualità del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali. Questi risultati, Alessandra Zollini. Per 34 amministrazioni centrali, l'organizzazione dello Smart Working in risposta all'emergenza Covid viene giudicata positiva. Insufficiente invece il monitoraggio degli effetti. Lo dice la prima indagine sulla qualità dei piani organizzativi del lavoro agile, i cosiddetti POLA, condotta dal CERBAP dell'Università di Ferrara con il Dipartimento della Funzione Pubblica e presentata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta. Sotto la lente, Ministeri, enti di regolazione dell'attività economica e di ricerca, parchi nazionali ed enti di previdenza, strutture associative. Sul podio per qualità media complessiva dei POLA ci sono ISTAT e i Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico. Guardando invece a ciascuna tipologia di amministrazione, ad avere i migliori POLA sono gli enti di previdenza e assistenza, con INAIL e IMSS in testa. In genere, tutte le amministrazioni sono state ben capaci di decidere e programmare chi fa cosa in regime di lavoro agile, ma, sottolinea l'indagine, non altrettanto brave ad individuare quali uffici funzionino in Smart Working, nella riorganizzazione fisica degli spazi di lavoro, nello stimare il benessere del dipendente, nel potenziare i percorsi formativi dei dirigenti.